Hanno preso il via alle iniziative per il 46esimo anniversario dell'omicidio mafioso di Peppino Impastato. Nelle diverse giornate saranno sviluppati il tema dell'informazione libera, l'antimafia sociale, le guerre, in particolare la situazione palestinese, il rapporto tra mafia, narcotraffico e dipendenze, insieme alle associazioni che si battono nei territori contro il crack e che vedrà la presenza storica cinese, direttamente dal Messico, di una delegazione del Congresso Nazionale composta da rappresentanti di lotte di resistenza dei popoli indigeni e dei contadini della regione meridionale del Pacifico Messicane che combattono contro criminalità organizzata e narcostato. Momento finale è la manifestazione del 9 maggio che ripercorre gli ultimi minuti della vita di Peppino Impastato, il corteo da Radio Out a Casa Memoria dove interverrà il segretario Luigi Giove, responsabile di organizzazione della CGL nazionale. La CGL Palermo, quest'anno copromotrice delle iniziative e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, lanciano insieme un appello alla mobilitazione per portare avanti il percorso che tra le sue tappe ha avuto il 29 aprile a Palermo l'Assemblea Nazionale contro mafia e corruzione della CGL che prosegue con l'anniversario di Impastato il 9 maggio e con il corteo del 23 maggio per l'anniversario della strage di Capaci. Un percorso di lotta alla mafia che parte dall'impegno quotidiano di ciascuno, in cui la CGL è impegnata con tutte le sue categorie. Invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici a partecipare per portare avanti la mobilitazione e la lotta nel nome di Peppino Impastato e di tutte le vittime della mafia per opporci alla violenza mafiosa e a quella fascista, dichiara il segretario della CGL Palermo, Mario Ridulfo. La lotta alla mafia deve essere declinata nella lotta per i diritti, tutti i diritti, al lavoro, alla casa, all'ambiente, alla scuola, alla salute e diritti civili e di genere. Per questo a Palermo è nata una rete di associazioni, il coordinamento sociale antimafia.